42 miliardi di euro è la stima che fa la CGL degli aumenti in bolletta che si riversteranno sulle famiglie e sulle imprese in Abruzzo per questo anno in corso. Un dato che fa preoccupare anche perché significerebbe per le imprese sicuramente un fermo della produzione in molti casi. E per le famiglie? Per le famiglie altrettanto. I 42 miliardi spalmati ovviamente a livello nazionale ma avranno una ripercussione pesante soprattutto in bolletta come stanno già vivendo le famiglie, l'aumento del gas non si può riuscire più a riscaldare un ambiente in maniera adeguata, l'aumento della luce. Ci sono dei costi per davvero esosi e c'è bisogno di intervenire con urgenza, non si può continuare a discutere di altro, c'è bisogno di capire come le famiglie, come i cittadini, come i disoccupati, come i pensionati riusciranno a garantire una stabilità anche rispetto a queste cose, le cose che possono sembrare secondarie ma che non lo sono perché fanno parte della vita quotidiana. Riuscire oggi ad avere un minimo di riscaldamento penso che sia un minimo che si debba poter garantire alle famiglie e non intervenire in questo modo è per davvero un qualche cosa che grida vendetta o intervenire semplicemente con 4 miliardi a livello nazionale e altrettanto dire nulla praticamente. Oggi c'è una discussione, viene rinviata per l'ennesima volta a livello di Consiglio dei Ministri, vengono rinviate a livello di territoriale discussioni, nessuno ne parla ma c'è un problema serio e quindi c'è la necessità di intervenire anche con strumenti a livello territoriale che danno la misura di riduzione di quelle che sono le tasse regionali. Per quanto riguarda le imprese per esempio si parlava anche di una detassazione che voi chiedete ma non solo. Sì una detassazione bisogna intervenire anche sul versante delle imprese, le imprese ovviamente sono quelle che rischiano ancora di più perché gli aumenti soprattutto quelle imprese che consumano molte energie adesso stanno valutando che facciamo, continuiamo a produrre, ci fermiamo, riduciamo, chiudiamo. Quindi questa è una discussione che non deve essere affrontata fra due anni, va affrontata nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è bisogno quindi che si intervenga anche a livello locale, regionale, provinciale e territoriale fermando quelle che sono le tassazioni locali e cercando di incentivare il fatto che le imprese resistano in questo momento. Fino a quando ovviamente si capirà come e in che modo si deve intervenire in maniera strutturale. Non può essere che questo costo di energia compromette quel poco di inizio di ripresa che c'era ma soprattutto il tessuto produttivo intero di questa provincia e della regione.